Alle elezioni politiche del 1994, seguite alla caduta del settimo governo Andreotti, nel quale era stato ministro per l'ennesima volta, Remo Gaspari non fu ricandidato ed è un cruccio che ci portiamo dentro, essendoci ritrovati all'origine di questa bocciatura. Eravamo allora tra i quattro commissari regionali voluti da Mino Martinazzoli, rifondatore del Partito Popolare, ed in una riunione a Pescara decidemmo all'unanimità di non ricandidare al Parlamento nessuno dei parlamentari democristiani uscenti fino ad allora in carica. I mugugni non si contarono, solo Remo Gaspari si fece da parte silenziosamente assumendo da allora il ruolo di padre nobile dell'Abruzzo che nessuno mai gli disconobbe fino alla sua morte avvenuta ieri a nove giorni dai festeggiamenti per i novant'anni. Abbiamo voluto ricordare questo episodio che pochi conoscono per sottolineare che quanto è accaduto poi nel panorama politico nazionale d'Abruzzese ha contribuito a farci rimpiangere da lunga pezza un'epoca in cui uomini come Remo Gaspari hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo di questo Abruzzo che si ritrovò tra le prime regioni europee per reddito medio e in prima posizione in Italia tra le regioni del Sud. Tutto questo fu merito di Gaspari certamente che con Lorenzo Natali ed altri parlamentari abruzzesi sempre antepose gli interessi della nostra regione a quelli di partito e personali. Da padre nobile dell'Abruzzo Gaspari in tutti questi anni di quiescenza politica non ha mancato mai di fustigare i nuovi politici pagnotari come li chiamava lui è una classe politica, usiamo sempre una sua espressione, molto più vicina ai cortigiani dell'Ottocento che ai parlamentari del Novecento, i primi nominati dall'alto e i secondi frutto di un consenso popolare guadagnato con i denti e con i fatti. Gaspari che era uomo di intuito e di azione insieme prefigurò la fine della DC di Martina Zoli ridiventata appena partito popolare, naufragata tra i marosi di Tangendopoli ma più ancora tra l'assurda certezza che la rinuncia ad un nome glorioso avrebbe potuto salvarla. Da Tangendopoli Gaspari uscì pulito come un lenzuolo steso sul prato ad asciugare al di là di un volo in elicottero usato da ministro per correre ad una partita di calcio, sua passione. Qui squiglie, direbbe Totò, se raffrontate a certe rubrerie a man bassa dei nostri giorni mentre il Paese e l'Abruzzo non fanno che regredire anche per l'inconsistenza di una nuova classe politica. Oggi siamo qui a rimpiangere un uomo. La sua storia è quella dell'Abruzzo e del Paese intero con dolore sincero e sincera partecipazione consapevoli che con lui si chiude davvero un'epoca che è un'epopea e preoccupati per non vedere innanzi a noi un futuro di sviluppo possibile solo con gente che soltanto minimamente assomigli a zio Remo.